La lotta all'antibiotico-resistenza è una sfida globale. Ogni anno 1.300.000 decessi sono attribuibili direttamente a batteri resistenti, soprattutto nei pazienti fragili, come neonati e anziani, con malattie croniche e concomitanti. Per questo motivo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'AMR uno dei dieci principali problemi sanitari mondiali. Con l'obiettivo di ampliare le conoscenze delle misure per contrastare l'antibiotico-resistenza, l'ASL di Sassari ha organizzato un corso di alta formazione per 120 operatori sanitari. Il corso di Borutta è stato organizzato dalla direzione aziendale dell'ASL in occasione della Settimana Mondiale sull'uso consapevole degli antibiotici e di contrasto al fenomeno della resistenza antimicrobica. Per la responsabile scientifica dell'evento, Claudia De Santi, è l'uso in appropriato degli antibiotici la principale causa del fenomeno. La crescente minaccia della resistenza antimicrobica, ha spiegato, richiede un intervento multidisciplinare secondo una visione One Health coinvolgendo tutti i settori interessati, comunità, ospedali, allevamenti di animali, rifiuti, acco e reflue. Il contrasto al fenomeno deve svilupparsi su diversi fronti e parte dall'impegno dei medici per la prescrizione e l'impiego appropriato degli antibiotici.